Salve, mi chiamo Diana del Bufalo, vengo da Roma, chiedo scusa posso alzare un attimo? Sono appena tornata da Londra e non sono studentessa, mi sono diplomata l'anno scorso, perché a Londra avevo molto i fiori e siccome sono stata là un po' di mesi è molto floreale e mette allegria.